E' per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione Io resto a casa Tesoro, hai sentito che Conte ha deciso di prolungare la quarantena? Abbiamo appena predisposto un nuovo DPCM con cui proroghiamo le misure restrittive sino al 3 maggio E quindi? Che ne dici di sistemare quella lista con tutte quelle cose da fare che sempre l'inviato per sistemare questa cataprecchia? Ma no, adesso, tranquillo, tanto c'è tempo, c'è tempo Più tardi, lo facciamo più tardi Ecco un caldo, sono occupata, non in questo momento, ho un po' di cose da fare, dai Va bene amore, ok? Ma questo lo vedrai alla fine della quarantena Ah Hello darkness, my old friend I've come to talk with you again Juan Maria I love you so much, mi amor So? We can't be together I don't care Let's run away together Remember the first time when we met? E' a, come and now Ma cosa fa? E allora Come scedermi la noia? 不能 Lo life Mi stai così buon un po' подivansi No Ma cosa vengono? Cos'ha Vegoo Non è funzionata No Ma ma Is there no What is iba Sì. Sì, diciamo che cosa ne dobbiamo fare con il giugno di questa quarta partita, c'è un coronavirus alla quarantena che già sta vivo e la gente che manda un messaggio che non dovrebbe, ma non si, è una cosa che invece fa la quarantena e non so, ma che io non so, ma è una cosa che mi fa la programmeda, trovi un po' di questo è una cosa che mi piace, ho notato, con la data che mi fa la agenda, venite! Sì, 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 sì. Ah, finito. Ce la faccio più, non ce la faccio. Una bella cena e dopo... Ma la cena? Pensaci tu, amore. Azza. Pure. Mannaccio coronavirus. Non andalb Phillips. Non andalb Phillips. Questioner de nozione. âu Rappunt 12 Perl 있ogت Can Diario ocean statistic scored Cu 横